Approfittando di una densa presentazione colma di dettagli, informazioni e soprattutto arricchita con i primi minuti di gameplay, siamo riusciti finalmente a carpire una manciata di elementi di gioco di Age of Empires 4, l'attesissimo ritorno di uno storico franchise che per l'occasione sarà sviluppato da dei veri maestri del genere. I ragazzi di Relic Entertainment, gli stessi di Company of Heroes, Warhammer 40.000 Dawn of War e Homeworld. Dalla composizione della campagna single player alle ere disponibili fino a toccare alcune delle civiltà che saranno protagoniste delle battaglie senza tralasciare un primo sguardo alle eccellenti componenti tecnologiche e artistiche del gioco. Questo è solo un assaggio di tutto quello di cui parleremo in questo video. Quindi ora seguitemi e preparatevi a saperne di più su Age of Empires 4. L'evento fan preview si è aperto con l'annuncio della nuova civiltà che si andrà ad affiancare agli inglesi e ai mongoli già annunciati in precedenza. Sto parlando del Sultanato di Delhi che introdurrà un nuovo affascinante stile artistico e soprattutto gli elefanti. Come è possibile vedere chiaramente negli ispezioni di gameplay mostrati, oltre ad offrire al giocatore uno specifico stile architettonico che si rifà agli archetipi indiani, il Sultanato possiederà una sua cavalcatura di dimensioni molto generose che potrebbe essere personalizzata in funzione delle unità montate sul suo dorso. Abbiamo infatti notato elefanti con in groppa soldati muniti di lancia, ma anche quadrupedi con una sella in legno in grado di ospitare un paio di arcieri come se si trattasse di una sorta di torretta mobile. Tra l'altro è incredibile notare l'attenzione che Relic ha riversato nella ricostruzione storica che sfocia nella grande ricchezza di armature e vestiario che possiamo vedere indossati dai soldati a piedi, da quelli a cavallo e chiaramente dagli elefanti che presentano una corazza particolarmente ricca di orpelli. In Age of Empires 4 tornano anche i cinesi. Dal brevissimo spezzone di gameplay mostrato abbiamo potuto notare la presenza di soldati armati di fucile che vanno ad affiancare quelli equipaggiati con arco e frecce, a sottolineare ancora una volta la supremazia di questa nazione nel combattimento a distanza. E a potenziare ulteriormente questo aspetto dell'impero si aggiungono anche fucilieri a cavallo, armati con una canna lunghissima in grado di colpire da media distanza le unità nemiche. Interessante anche la presenza di piccole unità di artiglieria capaci di scatenare una sorta di fuoco di sbarramento a distanza composto da decine di piccoli razzi, quasi dei fuochi d'artificio in grado di generare molteplici piccole esplosioni sull'obiettivo. Dal gameplay mostrato durante l'evento siamo riusciti anche a captare qualche ulteriore dettaglio riguardante la civiltà mongola, che per il momento è l'unica altra civiltà orientale annunciata insieme ai cinesi. Innanzitutto sembra che questa nazione sia in grado di spostare letteralmente le sue costruzioni, montandole a cavallo per poi muoverle sulla mappa. Inoltre sembra che i mongoli abbiano un qualche tipo di unità eroica in grado di potenziare con un buff l'esercito. Quella sorta di fuoco d'artificio blu che ogni tanto si intravede nel video è infatti molto sospetto e abbiamo immediatamente pensato a questo tipo di effetto. La seconda parte dell'evento ci ha permesso di scoprire finalmente qualche informazione sulla campagna del gioco. E abbiamo scoperto che sarà composta da quattro differenti storie. La prima, l'unica rivelata, vede l'Inghilterra contrapporsi alla Normandia. L'anno è il 1066 e Harold Godwinson, l'ultimo re degli anglosassoni seduto sul trono d'Inghilterra, dovrà cercare di contrastare l'ascesa di William I, il conquistatore, nonché duca di Normandia, a cui la corona dell'impero inglese è stata promessa da tempo. Harold dovrà vedersela contemporaneamente anche con un'altra minaccia, le continue scorribande dei vichinghi sulle coste nord-orientali dell'Inghilterra che impegneranno la sua nazione proprio mentre William I attraverserà il canale della Manica per sbarcare sulla sponda meridionale della Gran Bretagna. La rivalità tra i due governanti raggiungerà il suo apice durante la battaglia di Hastings, che rappresenterà un momento cardine della campagna normanna di Age of Empires 4 e di cui siamo riusciti a vedere un piccolissimo assaggio con decine di truppe dai due lati dello sconfinato campo collinare, pronte a scontrarsi in un sanguinoso combattimento. Ma a quanto pare questa battaglia segnerà soltanto l'inizio di una campagna ben più lunga, visto che il nuovo re William I dovrà ben presto fare i conti proprio con le terre del nord dell'Inghilterra, che non riconoscendo il nuovo sovranno sceglieranno di ribellarsi e successivamente di allearsi proprio con gli invasori vichinghi, non appena questi saranno riusciti a prendere la città di York. Uno sfondo narrativo così ricercato, ricco e chiaramente coerente con la storia dell'umanità evidenzia l'impegno di Relic Entertainment nel portare su schermo un nuovo Age of Empires particolarmente fedele alla realtà, e cercherà di farlo modificando sostanzialmente anche il modo di narrare la storia all'interno della campagna. Le missioni più importanti saranno infatti accompagnate da tutta una serie di documentari storici narrati da una voce fuori campo che approfondiranno alcuni aspetti degli avvenimenti che potremo poi vivere in Age of Empires 4. Ogni volta che parte un singolo spezzone di Age of Empires 4 non si può fare a meno di notare una cosa, l'incredibile salto in avanti fatto da Relic in termini tecnici e grafici. Age of Empires 4 è davvero splendido da vedere, soprattutto per quello che concerne le ambientazioni, estremamente vive, credibili e curate con scenari naturalistici ricchi di avvallamenti, corsi d'acqua e vasti spazi verdi. E a tutto questo si aggiunge il dettaglio di unità e costruzioni che ancora una volta stupiscono per il grado di attenzione minuziosa verso ogni singolo particolare, dal vestiario all'uso di utensili e armi fino ad arrivare alle generose animazioni per sottolineare ogni singola attività opposa da combattimento. Sul fronte tecnologico-artistico sembra davvero che i ragazzi di Relic abbiano centrato l'obiettivo. C'è però anche una sorta di rovescio della medaglia, visto che a quanto paire Age of Empires 4 si limiterà a implementare le stesse quattro ere del secondo capitolo della serie, Oscura, Feudale, Dei Castelli e Imperiale. È indubbio che ci saremmo aspettati forse qualcosina di più anche in funzione del lavoro di ampliamento del periodo storico realizzato con Age of Empires 3, ma allo stesso tempo è evidente che Relic non si sia limitato a fare il compitino, ma abbia instillato moltissima sostanza in termini di varietà e profondità di queste quattro ere classiche. Nell'ospensione di gameplay mostrato durante l'evento è infatti subito evidente come, ad esempio, l'Era dei Castelli modifichi sostanzialmente la componente strategica del gioco, spostando tutta l'attenzione verso la gestione minuziosa delle fortificazioni del proprio quartier generale e contemporaneamente implementi un nuovo elemento tattico con l'introduzione di un numero davvero imponente di unità d'assedio. La speranza è che anche le altre tre ere offrano lo stesso tipo di approfondimento e diversificazione del gameplay. Decisamente più scarne purtroppo le informazioni riguardanti il multiplayer di Age of Empires 4. Al momento l'unica informazione degna di nota emersa durante l'evento è la scelta molto precisa di Relic di spingersi decisamente oltre gli elementi tipici di questa serie. Sembra infatti che l'obiettivo del team di sviluppo sia quello di mettere in campo civiltà in grado di rendere asimmetriche le dinamiche nel multigiocatore, visto che pur rispettando il triangolo dorato del franchise con la fanteria che vince sulla cavalleria, che a sua volta vince sulle armi a distanza, che hanno alla meglio sulla fanteria, si punterà a offrire un gusto e uno stile in grado di rendere davvero differente l'utilizzo di ogni nazione. Magari pensare a Protos, Zerg e Umani di StarCraft è eccessivo, ma stando alle parole di Relic è esattamente questa la direzione che il team ha voluto imprimere al sequel. Attenzione però a pensare che Age of Empires 4 possa rappresentare un punto di rottura con il passato della serie. Il gioco nasce infatti sulla base di un enorme lavoro di studio e ricerca di tutti gli elementi che negli anni hanno caratterizzato il gameplay degli Age of Empires. Un lavoro che ha permesso a Relic di modellare l'ossatura del nuovo episodio in modo tale che sia coerente con gli elementi fondamentali della serie e permette ai giocatori di vecchia data di entrare subito in sintonia con il quarto capitolo per poi scoprire tutte le novità implementate. L'uscita di Age of Empires 4 è prevista per l'autunno del 2021, quando con precisione ancora non lo sappiamo, ma sappiamo invece che è prevista una closed beta per poter toccare con mano questo gioco e verificare le tante promesse fatte. Nel frattempo se avete smania di giocare vi potete consolare con tutte e tre le Definitive Edition appena arrivate sul Game Pass. Prima però di fuggire via per andare magari a giocare, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, di suonare la campanella e di farci sapere se vi è piaciuto questo Age of Empires 4, se lo state aspettando. E poi mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video che fa sempre piacere. Grazie. Grazie. Grazie.